e diciamo che quest'anno la stagione sta andando distrettamente bene Monza riguarda sempre fortuna già vinto la 10k via della Galmi secondo la 10k per l'anno quindi oggi è un'altra vittoria la seconda qua a Monza dopo il 2013 in vista di? in vista di una maritona che è ancora da decidere e quindi vedremo come si avvolverà la stagione la preparazione maratona entro il 2015 e ne abbiamo tante perché inizia la seconda parte di stagione complimenti all'anno in curenza per questa vittoria ora con Giorgio Londetti il tuo sorriso che la distingue da tutte Deborah, un bel test? sì sicuramente tutto benissimo contenta ma siamo pronti bellissimo ultimo allenamento tirato ultimo allenamento tirato il percorso come l'hai trovato? ma bello la prima volta che venivo qua a Monza carica a correre qua in questo entro all'autonomo è bello qua il parco scuro è sempre bene un po' duro gli ultimi chilometri ma bel percorso complimenti la ponte a tutti che hanno incontrato 27 settembre nella maratona più veloce del mondo ci sarà anche lei Deborah Antonioni grazie da qua venimo allora come vissi? grazie a tutti